Ciao a tutti e benvenuti su Megisoflotus Allora prima di iniziare vi ricordiamo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati Allora, vi ringraziamo tantissimo per il supporto, stanno arrivando i tappetini personalizzati Faremo un video dei contenuti per farveli vedere e speriamo siano venuti bene La speranza è quella, la felpa è venuta veramente bene La rifaremo in futuro, quindi qualora siete interessati iscriveteci pure, vi segniamo in un file Poi appena riusciamo ad essere un tot, le rifacciamo, le rimandiamo in stampa Grazie a tutti quelli che l'hanno presa, ma grazie a tutti quelli che non l'hanno presa ma che seguono il canale Perché per noi non è un problema né chi la prende né chi non la prende, è veramente una cosa extra I Magis of Lotus siete tutti benvenuti Allora, seconda parte del Power Ranked di Legacy Mi scuso per eventuali imprecisioni Ho diviso il video in due apposta per andare non troppo veloce, così almeno riesco a non fare strafalcioni Nel caso se no mi scuso di nuovo veramente perché mi spiace E devo dire che guardando un po' i mazzi Legacy mi piace, mi piace il formato, mi piace tanto Tra l'altro ho scoperto che ho buone carte di tanti deck Quindi comunque pensavo fosse meno accessibile invece riuscirei comunque a giocarlo Quindi chissà magari mi vedrete prima o poi a un torno di Legacy Live Chi lo sa, a cappellare ovviamente perché non conosco benissimo il formato Allora, siamo rimasti Ripartiamo dalla quinta posizione in cui troviamo Reanimator Un mazzo interessante anche se devo dire forse un po' lineare Con delle scelte ma un po' lineare nella strategia di base Nel senso che la strategia è Rianimare Rianimare è tendenzialmente Griselbrand Che è un po' l'obiettivo di diversi deck in Legacy Allora, carte da segnalare sono Griff Che chi gioca a moda lo conosce è una copertura Cancellor è un'altra copertura Questa è molto interessante a spiegare E se lo rivediamo a inizio partita Senza pagare mana Counteriamo la prima spell dell'opponent A meno che non spenda uno Quindi se noi lo rivediamo e proviamo a rianimare Griselbrand nel nostro Nel nostro primo turno Abbiamo presente vinto se siamo un The Play Cioè riusciamo a rianimare Griselbrand senza problemi Quindi questa è una cosa fortissima Oggettivamente fortissima E poi Sera Emissary, Arconte Ma sono carte da rianimare in casi situazioni limite Nel senso se giochiamo contro un agro spinto E ci serve, che ne so, far sacrificare la creatura in Mirror Non lo so L'Arconte magari è più forte, no È un'opzione in più, diciamo Ma di base vogliamo rianimare Griselbrand Abbiamo Dark Ritual Entomb, Fateless Looting Rianime, Taos Sides, Exum, Unmask Prendete tutte le spell sono O Riti, o carte per rianimare O carte che fanno pesco e scarto O mettono al cimiterio le creature Oppure scartini di copertura Cosa molto importante Qua gli scartini possiamo farli anche su noi stessi Per appunto mandare la creatura dalla mana al cimiterio e rianimarla Cioè non è una cosa strana fare Taos Sides su se stessi E mandare al cimiterio e griselbrand e rianimarlo In questo mazzo è normale Quattro Lutus Petal per accelerare nuovamente E quattro Unmet Dead per rianimare Quindi mazzo lineare, come vi dicevo Può essere divertente Anche questo è un mazzo che secondo me Però non ha un Diciamo un divertimento lungo nel tempo Nel senso che magari vi divertite un tot Per un tot di game E poi dopo un po' però Oggettivamente fa sempre la stessa cosa Quindi è un po' noioso Non è un mazzo che fa cose diverse Però è forte La strategia è forte E il cancellor, come vi dicevo Vi dà delle auto win Perché siete praticamente nuts Nuts vuol dire che non potete perdere E... I magic e tanta roba Quarta posizione per G-Sky Control Simile alla lista che vi ho fatto vedere In sesta posizione se non sbaglio Questa però è una creatura Ma solo placewalker 3 Nars, 3 Teferi e 3 Jace Quindi tanti tanti placewalker Sono tutti blu Quindi sono tutti esiliabili di Force of Negation E Force of Will E questo è un vantaggio enorme Perché ci permette Di ciclare le copie extra Che non ci servono In maniera produttiva Veramente, veramente una cosa forte I resti mazzo sono tutti counter E peschini e removal Quindi devo dire che anche qui La strategia è semplicissima Chiudiamo di Noia O di Shark Typhoon Ne abbiamo due E... Sono una chiusura Oggettivamente Però il mazzo È proprio un bollone 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 Mmm... Per giocare a questo tipo di mazzo Dovete conoscere molto bene il formato Quindi non basta conoscere il vostro deck Dovete conoscere anche il deck degli altri Perché ricordatevi che quando giocate mazzi Pieni di risposte Dovete conoscere le domande degli avversari Quindi le minacce Se non le conoscete Non giocate questo tipo di mazzo Perché non ha senso Giocate un mazzo più proattivo In cui siete voi a mettere le minacce Così sarà l'altro A dover scegliere cosa Neutralizzare O spaccare cosa no Quindi la conoscenza dovrà essere più Dalla parte dell'avversario Non c'è molto da dire È simile all'altra lista Solo che l'altra aveva il verde E Juro Questa non ha il verde Niente Più controllosa ancora Buon mazzo Ripeto Da giocatori esperti Terzo posto Per Naya Adept Che è un mazzo Che si basa sulle terre Un Lens Tra virgolette Infatti gioca 28 terre 12 creature E il resto Miste Allora Carta del mazzo È il Vischer Reclaimer Costa 1 1-2 Prende più di più di 2 Fintanto che abbiamo 3 o più terre nel cimitero Tappiamo 2 Lo tappiamo Sacrificiamo una terra Cerchiamo una terra La mettiamo tappata Una terra qualsiasi In legacy questo È tanta 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 roba Andiamo a vedere le terre Subito Allora Bojuka Bog Esilia cimitero Dark Depths Combo 20-20 indistruttibile Vabbè La Flagstone Of Trocair È una value card Nel senso che Se sacrifichiamo lei Di Vischer Reclaimer O di Crop Rotation Che andremo a vedere Si cicla Perché ci va a prendere Una pianura E la mette in campo Poi abbiamo Caracas Quindi Altra carta a tempo Mezzo fit Carta a tempo Removal Tra virgolette Sei giri Step Carta molto importante Perché ci permette Di proteggere Le nostre creature Perché quando entra il gioco Tappiamo la protezione Da un colore È una nostra creatura Fortissima Perché ci basterà avere Vischer Reclaimer Attivo O Crop Rotation Andiamo a vedere Cosa fa Crop Rotation Tappiamo uno Sacrifichiamo una terra Come costituzionale Cerchiamo una terra La mettiamo in campo Fortissima Con sei giri Perché ci permette Di avere un proteggino Per le creature Che è forte Con tutte le nostre creature Perché ne abbiamo Otto almeno Che vogliamo ottenere Che sono Gli Elvisher Reclaimer Più I Knight of Reliquary Che fa simile All'Elvisher Reclaimer Ma non dobbiamo pagare mana Ma dobbiamo tappare Il Knight Sacrifichiamo una terra Una pianura Una foresta E prendiamo una terra E la mettiamo in campo In campo Neanche tappata E poi lui si pompa È una bella chiusura Quindi sei giri Due per Tespia Stage Che scomba Con Dark Depths Ed è molto forte Tre Wasteland E due Giavi Maya Allora In queste liste Avendo le creature Non si gioca Il Tabernacolo Perché Quella carta Si gioca in Lens E basta Quindi nella vecchia liste In cui c'è In cui c'erano solo Solo Terra Praticamente Giocava veramente Una marea di terra Invece questo Non è così Questo ha le creature Vediamo la tower Ah la tower L'ho vista che stava salendo Ve l'ho anche detto In una pils Perché appunto È piena di creature artefatti Adesso Quindi dare protezione Dagli artefatti È molto importante Quindi Questa è Una nota a margine Visto che ci ho fatto Anche la pils Altre creature C'è altre carte Da segnalare Greensazenit Tutore fortissimo Abbiamo delle removal Eccetera Moxdiamond Ecco Questa è una carta Un po' Non inaccessibile Perché tanto Costa come una dual Quindi Però è un po' La carta cara Del mazzo Quindi Se non li avete Dovete essere Cioè È troppo importante Per il deck Quindi dovete averle Se volete giocare il deck Tre Silva Library E bom Il deck è finito qui Questo è davvero divertente Questo invece Rispetto agli altri deck Non è lineare Ma invece Ha tantissime situazioni diverse Tantissime partite diverse Tantissime carte A prendere diverse Terre Quindi questo è un mazzo Che vi divertirà Per tanto tempo Quindi questo Ve lo consiglio Caldamente Il problema È appunto Quello che vi ho detto Cioè Il costo non è basso Per niente Vediamo quanto lo dà Qua A 4000 Sì Tra l'altro La lista controllo A 2008 E Naya Depths 4600 E 3 Appunto I Tremox Diamond Sono un salasso Però Se avete i soldi per montarlo Avete già le carte Ci sta Secondo posto Per dettentaxis 1400 euro Quindi anche molto accessibile No? Quando si dice Legacy Formato inaccessibile Costi troppo alti Devo dire che Guardando questi mazzi Non si discostano Tanto i prezzi Da un commander Per centurion Competitivo Più colori O col blu Quindi È vero Ma non è vero Perché io vedo tanta gente Che gioca a commander Centurion E Non ci sono queste critiche Sui prezzi Invece su Legacy Sì Credo che sia un falso mito Oggettivamente Perché è vero Che ci sono mazzi Tricolor Vediamo Reanimator neanche Cioè Reanimator A 2000 Non lo so Mazzi magari tricolor Possono costare Tanto 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 Magari Soprattutto quelli col blu E col nero Perché hai mari Però tendenzialmente Cioè le scelte Le abbiamo Per spendere una cifra Accettabile In questa top 10 Di Legacy Ci sono tanti mazzi Che hanno un prezzo Come un commander Quindi Forse un falso mito Allora Questo è un detentaxis Mono bianco Quindi al secondo posto Troviamo un mono bianco Incredibile E Yorion In questo caso Questa lista E Quindi 80 carte Classiche creature piccole Fastidiosi O che ci danno protezione Mother of the Runes Stoneforge Mystic Che ci tuttora Uno degli equipaggiamenti Andiamo a vedere Gli equipaggiamenti Che sono molto importanti Lion Sesh New Entry 8 Counter Cimitero E si ingrandisce Veramente tanto Poi abbiamo La Shadowspear La Jitte di Umezawa La Batter School E Kadra Complete Quindi le classiche Del modern anche Quelle che sono legali Quattro taglia Molto importanti Molto importante È veramente una carta fastidiosa In Legacy Un formato dominato Dalle non creature Spirito del Labirinto Non fa pescare più Di una carta a turno Quindi fastidioso anche questo Recruiter È un tutore Skechile of Apparation Removal Solitude Quattro Solitude Ci sta Perché comunque costano zero E tolgono i Playswalker Che si giocano tanto Nei controlli Quattro Swirl to Ploucher Quattro Rider Via Il mazzo è tendenzialmente questo Le terre Sono abbastanza importanti Perché troviamo Quattro Caracas Quattro Rishadan Port Quattro Westram Quattro Roussasaga Quindi vedete quante terre Che fanno qualcosa In più abbiamo una new entry E questo mi fa molto piacere E sono due ganjo Che è una delle carte Che sto spingendo di più Del nuovo set Perché appunto è multiformato Come vedete la vediamo Dallo standard Da Legacy Passando per i Commander In Modern E Pioneer Eccetera Quindi è proprio Tutti i formati Una carta così Non può costare 4 euro Quindi salirà anche questa Almeno questa è la mia previsione Poi potrei anche sbagliarmi Da segnalare Ma il mazzo è divertente Per la cifra che costa E' un buon investimento A livello di futuribilità Perché questo mazzo qua Esiste da Da sempre In Legacy Credo Cioè io da quando Ho ricominciato a giocare Quindi da 2012 Questo mazzo esiste Quindi è un Evergreen Spendere soldi In questi mazzi È sempre buono E devo dire Che non credo Che verrà mai bannata Qualcosa di questo deck E se qualcosa Verrà bannata Sicuramente Sarà giocabile Comunque Perché non c'è una Forse la Fiala Però la Fiala Non la banneranno mai Penso Poi non voglio Non sono un esperto Ripeto Quindi non voglio dire Troppe cose Che magari poi Sono sbagliate Però è un mazzo Che È un investimento Che voi Terrete per anni 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 Primo posto I Z Delver Mazzo anche questo Un Evergreen In Legacy E questo è un mazzo Oggettivamente divertente Classico tempo Che quindi diverte Un po' tutti Abbiamo solo 13 creature Che sono 4 Delver 4 Dragon Chandler Una Brazen Borrower E un 4 Mortide Regent Che è una new entry Di Modern Horizon 2 Che è veramente gigante In Legacy Lo castiamo Veramente facilmente E Veramente grosso 4 Braystone 4 Bolt 4 Ponder Spears No Lead Days Express Interaction Force of Will Mishra Bubble E poi delle terre 4 Wast Classico Classico Mazzo tempo Niente di strano Niente di nuovo Chi gioca a Pauper Gioca una cosa simile O ha giocato una cosa simile Chi gioca a Legacy Da tanti anni Ne ha visti Di questi mazzi Ha decine E Non c'è molto da dire Se vi piace Una strategia a tempo È il mazzo giusto Allora questo Come prezzo Ma lo da 4200 Perché comunque Ha 4 Force of Will E 4 Volcanic Island Come vedete Però Sono 3000 dollari Di Volcanic Island Quindi È il prezzo Tutto lì Il resto è mazzo Sono 1000 dollari 1200 dollari Quindi Sinceramente Non vorrei dire Una castroneria Però Secondo me Non è che dovete avere Per forza 4 Volcanic Island Se non giocate Super competitivi Per giocare a questo deck Non dico che al posto Di 4 Volcanic Island Puoi rimettere 4 Steam Vance Perché non è così Però magari Giocare solo 2 Volcanic Island E una Steam Vance Più Due basiche O Non lo so Qualcos'altro Può essere un'alternativa Io adesso Non so bene Perché anche Tipo ci sono le terre Che ti fanno pescare Di Horizon 2 Comunque ripeto Il core del deck Tutto il core del deck Costa pochissimo Solo le Volcanic Island Sono care E questo è il tier 1 Allora Siamo giunti alla conclusione Di questo video Spero vi sia piaciuto Lasciate un like Sietevi al canale Commentate Attivate la campanella Se volete altri video Su legacy Ditecelo nei commenti Nel gruppo telegram Eccetera Perché abbiamo iniziato La difficoltà era iniziare Una volta iniziato Poi Sicuramente Andremo spediti Ciao Un saluto Un abbraccio Mi sa flottos